Insieme al sindaco di Mendatica per presentare gli appuntamenti del mese di agosto, in particolare l'appuntamento con la Cucina Bianca. L'appuntamento della Cucina Bianca è l'appuntamento più importante delle manifestazioni di Mendatica, del mese di agosto di Mendatica, che quest'anno cade il 24 agosto sera, quindi invito tutti a venire a Mendatica per partecipare a questa rassegna gastronomica dei piatti della Cucina Bianca per le vie del paese, quindi questo percorso itinerante lungo le aie del nostro paese. Che cos'è la Cucina Bianca? Lo spieghiamo agli amici, ai turisti. Perché è così importante per Mendatica la Cucina Bianca? La Cucina Bianca è questa cucina particolare derivante dai piatti della tradizione agricola e pastorale delle nostre montagne. Bianca perché il colore predominante degli ingredienti è il bianco, farina, latticini, verdure poco colorate come i porri, i cavoli, le patate, quindi tutti i piatti fatti con prodotti di montagna. Quindi è importantissimo per questo perché comunque oltre a rappresentare un territorio, anche un territorio difficile in cui coltivare non è facile e quindi adesso ci sono anche nuove aziende agricole che si stanno facendo spazio, quindi questo è una cosa buona e quindi è per quello che noi promuoviamo questi piatti, alcuni di questi piatti della Cucina Bianca si assaggiano solo in questa particolare serata, quindi è molto importante per il nostro territorio.